Bene, apriamo questa serata di dialoghi, questo ciclo di incontri che abbiamo pensato di promuovere con Cosmia su delle tematiche legate a dei progetti che stiamo seguendo come associazione, come per esempio il progetto di cicatrici e baci di Barbara o a delle tematiche che semplicemente ci interessa interrogare, no? Barbara e Andrea, stasera appunto siamo qui insieme per parlare di rituali di passaggio, quindi un'altra cosa che ci interessa è la possibilità di esplorare anche un po' i linguaggi e le narrazioni che facciamo sulle cose del mondo e quindi in questo caso appunto sul rituale di passaggio. L'idea è quella di avere due prospettive su questo tema, una è la prospettiva antropologica, quindi la possibilità di guardare al rituale di passaggio da un punto di vista, possiamo chiamarlo macro e invece dall'altra di focalizzare un po' sull'esperienza individuale e personale di ciascuno di noi e quindi tramite cicatrici e baci, guardare al rituale di passaggio come la possibilità di ricreare dei momenti particolarmente importanti, critici ma non in senso negativo della nostra vita e di poterli anche in qualche modo, no? Barbara, correggimi se sbaglio, ricrearli, ritualizzarli tramite dei ritratti, come li chiami tu, ritratti di processi di guarigione. Quindi appunto avrete capito stasera ci sono con noi Andrea Carla Volpe, antropologa, che ci parlerà appunto del rituale di passaggio dal punto di vista antropologico e quindi da una prospettiva collettiva di questo tema e Barbara Tosti invece che è la creatrice di cicatrici e baci che invece ci offrirà uno sguardo più intimo sulla possibilità appunto di ritualizzare questi passaggi. Inizierei magari facendo una domanda ad Andrea, il titolo di questa serata che abbiamo deciso di dare insieme a questa serata è il rituale come atto poetico. Ecco, ti chiederai Andrea perché parlare di rituale come atto poetico. Bene, ci arriviamo. Allora, innanzitutto perché nella maggior parte dei rituali è presente un'attività che si chiama processo mimetico, una manifestazione, un'attività di imitazione di simboli e pratiche che viene messo in atto generalmente da un gruppo ma anche da un individuo o da una cultura nei confronti dei simboli e delle pratiche di un'altra cultura, dove con cultura non intenderei solamente culture umane ma possono essere anche culture di altri animali, di altre nature, di altri ecosistemi. È particolarmente vero per alcuni rituali che si chiamano rituali di incremento e sono quei rituali, diciamo, tra virgolette finalizzati a incrementare o a far sviluppare o far crescere animali o provocare determinati fenomeni naturali come ad esempio la caduta della pioggia e in questi rituali ci si veste, ci si comporta come gli animali, come un fenomeno naturale. Però ecco, questi sono appunto processi mimetici di imitazione, però questi rituali non sono finalizzati, non sono fondati su una logica causa-effetto. Io lo faccio per avere questo ritorno. Questi rituali servono più a capire il mondo nel quale ci troviamo piuttosto che a spiegarlo. E la mimesi è l'imitazione piuttosto finalizzata nell'essere umano a far sì che lui provi ad essere qualcos'altro da sé, come a evocare appunto la presenza di qualcos'altro, di un animale o di un fenomeno naturale all'interno di se stesso pur rimanendo se stesso. E il collegamento con la poesia ce lo fa fare Aristotele, lo diciamo, e diceva che attraverso l'imitazione e la mimesi noi impariamo e creiamo. E a differenza della storia lui diceva che la poesia è più seria, più importante, perché la storia ci racconta delle cose del passato, mentre la poesia ci dà la possibilità di creare qualcosa di nuovo e di ricrearci. Un'altra cosa interessante di questi rituali che appunto prevedono questa imitazione, questo processo mimetico, è che sono dei drammi, sono delle teatralità, sono delle messe in scena. Poi più nel dettaglio i rituali di passaggio sono delle forme di rituali, sono delle tipologie di rituali e per avere un riferimento il primo a studiarli è stato un antropologo belga, siamo negli anni 70, che aveva distinto tre tipologie di rituali di passaggio. Rituali di separazione, sono tre, separazione, transizione e aggregazione. Particolarmente importanti i rituali di separazione come rituali di passaggio, ad esempio nelle cerimonie funebri, i rituali di transizione invece particolarmente importanti nelle fasi ad esempio di gravidanza o di fidanzamento, che sono proprio delle vere e proprie fasi transitorie, o quelli di aggregazione ad esempio nelle cerimonie di matrimonio matrimoniali, dove si segna il passaggio da ad esempio un gruppo da una famiglia all'altra, proprio anche fisicamente, alle volte anche in un luogo da una casa all'altra. I rituali di passaggio sono appunto messi in scena proprio per segnare il passaggio da una vita all'altra. E questi studiosi, questi qui che hanno studiato i rituali di passaggio, hanno detto che dicono, suppongono che all'interno di ciascuna di questa forma di rituali di passaggio, quindi separazione, transizione e aggregazione, ognuno di loro al suo interno è un processo, si suddivide in ulteriori tre fasi che mancano un po' di fantasia prendono lo stesso nome. Quindi la prima fase ad esempio di un rituale di separazione è proprio la fase di separazione, la seconda fase è la fase di transizione e la terza fase è la fase di aggregazione. Si utilizza anche la parola limen che definisce, che deriva dal latino e vuol dire confine per definire queste tre fasi. Quindi preliminale, fase preliminale, quindi quella che viene prima di questa frontiera, prima di questo confine, fase liminale che è proprio nel momento in cui siamo sul confine e stiamo trasformandoci in qualcos'altro e poi la fase di aggregazione che è la fase post-liminale. E molti hanno sostenuto, tra cui citiamo Turner, che la fase liminale, proprio quella di transizione è la fase più delicata, perché è il momento in cui il gruppo, l'individuo vive proprio uno stato di sospensione. Prima eravamo qualcosa, adesso siamo qualcos'altro. Se pensiamo alla morte ad esempio, con il rituale di separazione, prima si era vivi e poi non si fa più parte del mondo dei vivi, si fa parte del mondo degli antenati, dei morti, degli spiriti. La fase di separazione quindi segna la fase di distacco. Ad esempio la nostra cultura potrebbe essere il rituale nella cerimonia funebre dell'istremunzione, che segna proprio la prima parte di distacco. La fase del lutto, dove ci si sospende in un mondo che non è ordinario, che si chiama anche dell'antistruttura, ci si veste in un modo diverso, ad esempio di nero, alcuni si vestono di bianco, non si mangiano certi cibi, finché il morto non entra a far parte nel mondo dei morti e i vivi si ristabiliscono e quindi c'è la fase di aggregazione e di disgregazione, anche se può dire in un certo senso. Pasi liminali sono ad esempio anche la gravidanza o il fidanzamento. La donna prima è una donna, non è ancora madre. La gravidanza è una lunga fase di transizione in cui ci si prepara ad assumere un nuovo status, un nuovo ruolo sociale nella società. C'è come esempio di rituale abbastanza forte, che è utile per capire come si si struttura il rituale, c'è un un esempio di rituale di iniziazione di Turner, di iniziazione di installazione del capo, è un capo, prendiamo qualcosa di classico, una storia degli anni 70, un campo, un capo della popolazione Ndembu di Zambia, in cui nel momento precedente alla sua installazione, nel momento in cui viene riconosciuto capo dal gruppo, questo si costruisce un rifugio a circa un miglio di distanza dalla città, per poterlo separare dalla città, quindi questa è la prima fase di separazione e nel frattempo i funzionari rituali, che si possono chiamare sacerdoti ad esempio, lo spintonano, lo insultano, lo tazzano male, lo umiliano, quella è la fase liminale dell'antistruttura in cui l'ordine viene sovvertito e solamente quando c'è questa fase di trascendenza totale, di sospensione totale, liminale, dopo un po' c'è la fase di aggregazione dove finalmente questa persona diventa il capo e viene riconosciuto da tutti. Ce ne sono tanti di rituali di transizione, ad esempio conosciuto all'interno del nostro sistema, ad esempio anche il carnevale era un rituale di antistruttura, era un rituale nel quale per una volta all'anno il popolo, i poveri generalmente, avevano l'occasione di vestirsi come gli aristocratici, come i nobili e di sovvertire l'ordine e di prendersi gioco di loro. Si ristabiliva un pochino l'equilibrio sociale in questo modo. Poi non so, parlavamo con Delia e avevamo fatto una riflessione, una domanda, lancio la domanda. Si pensava appunto ai rituali, questi sono diciamo i rituali di passaggio, non sono tantissimi di quelli che viviamo nella nostra vita, cioè almeno a me riflettendoci di quelli conosciuti che viviamo accettati e riconosciuti socialmente, mi vengono in mente appunto il funerale, il matrimonio, in alcuni luoghi il servizio militare è ancora un rituale di iniziazione. Però ci sono, e quindi mi verrebbe da chiedere ad esempio a Salvino, a Barbara, a Delia, quali sono i rituali sociali che avete vissuto e che riconoscete come istituzionalizzati? Ci sono, va bene. E poi invece quali sono quei passaggi di vita che ci sono, che non sono istituzionalizzati, che sono silenziosi e che non sono accompagnati da nessun rituale? Ecco, lancio un pochino questa domanda dopo avervi fatto un po' il quadro di quello che si dice in antropologia. Grazie Andrea. Magari si può lasciare alleggiare un attimo queste due domande, che sono sicuramente centrali penso per il confronto di questa sera. Magari potrebbe aver senso qui chiedere a Barbara appunto di raccontarci un pochino cicatrici e baci, in che modo si collega al discorso del rituale e del rituale come atto poetico e forse anche già in risposta in un qualche modo alla domanda che ha posto Andrea su questi passaggi silenziosi, che non sono magari socialmente riconosciuti, ma che vengono vissuti. Sì, aspetta, adesso la prima era. La prima era, se vuoi raccontarci un pochino, cicatrici e baci, in che modo si collega al discorso del rituale. Intanto buonasera anche a Ersida. Buonasera Ersida. Si sta collegando l'audio. Allora, intanto una delle cose che sicuramente ho da sempre fatto mia, perché l'ho sempre riconosciuta, mi ha sempre attratto molto, è proprio la questione della messa in scena. Il fatto che l'uomo tende, e ha sempre teso nel suo essere, su questa terra, su questa storia, a trovare delle modalità per, appunto, mettere in scena. E cosa vuol dire? Entrare in uno stato fuori dal quotidiano, in cui si va a creare una rappresentazione. Qualcosa di, che va costruito, no? Qualcosa di utile, se vogliamo. Cioè, abbiamo dei bisogni quotidiani che ci portano, la vita, le relazioni, eccetera. E poi questa necessità, che è indubbiamente una necessità, altrimenti non si riprodurrebbe da sempre e per sempre, così, nella storia, di fare un attimo pausa, andare a chiarire, chiarirsi, ricostruire in uno stato, potremmo dire, astratto, ma anche reale, quello che sta succedendo. Allora, io creo il discorso ora perché ho una visione un po' particolare. Personalmente, qualsiasi momento è un piccolo rito di passaggio. Cioè, se vogliamo proprio andare a livello poetico e a livello di ispirazione, ogni respiro potrebbe essere un rito di passaggio, cioè un momento di passaggio, no? Cioè, siamo sempre, se andiamo nel piccolo e nel microscopico, passando da uno status all'altro. Tutto quello che è il nostro lavoro è proprio un lavoro di regia, se vogliamo, un lavoro di porre l'attenzione e definire le cose. Quindi, appunto, il microcosmo è vasto e pieno di dettagli. Quello che succede è che si va a seguire ciò che è importante perché è per inserirsi poi di nuovo in quel macrocosmo che è lo svolgimento dell'esistenza. Cioè, se quello di cui parla Andrea è definito socialmente perché ormai nella storia si sa che si passa attraverso la crescita, che ne so, una volta era un rito di passaggio anche quando una donna aveva almenarca, no? Si dice le prime situazioni, cioè proprio dei cambiamenti significativi. Poi c'è, vabbè, i ragazzi avevano i loro, no? Adesso magari c'è un po' meno, ma prove di coraggio magari. L'unione, il matrimonio, appunto, i figli. È tutto un macrocosmo. All'interno di questa grande storia che si dispiega, ognuno di noi comunque si rapporta alla propria storia personale, al proprio, come si dice, spazio. Sì, un po' più piccolino, un po' più vicino, dove avvengono tanti altri passaggi. Più o meno importanti, appunto, alcuni si ragganciano al macrocosmo e all'importante, altri sono un po' più piccini. E soprattutto capita che ce ne sono alcuni che sono molto personali. Quello che io un po' vado a definire come cicatrici, insomma, qualcosa che ci accade, una piccola o grande, scusate, una piccola o grande rottura durante il nostro percorso. E come un inciampo potrebbe essere, potrebbero essere tante cose, però, beh, banalmente potrebbe essere che te cade, adesso dico una tanto per, ma te cade l'albero sulla casa, che poi, lo dico così perché vi dico, possiamo portarlo anche nel passato, te cade l'albero sulla capanna, non lo so quello che era, no? Cioè, come si può vedere in tutta la storia. È caduto a te, no? È una cosa che hai vissuto tu personalmente e che ti porta a rompere un equilibrio personalmente. Quindi sei costretto, in qualche modo, in questo stato liminale di cui si parlava. Cioè, tu hai questo stato liminale e hai il confronto che devi attuare per entrare di nuovo nella coerenza di tutto il gruppo, questa danza un po' tra il personale e il collettivo. Sì, questo è un po' forse quello che diceva Andrea prima su questi passaggi silenziosi, no? Di cui abbiamo parlato prima. Andrea ha lanciato una domanda per chi non c'era, quali sono i rituali collettivi socialmente riconosciuti, se vuoi, quindi per esempio appunto il matrimonio, la gravidanza, la morte e quali invece sono i rituali più silenziosi che vengono vissuti personalmente, no? E Barbara, penso che è di questo che stai parlando. L'albero è caduto, è caduto sulla mia casa, no? Quindi ha creato una frattura, una rottura, come l'hai definita tu. Ecco, che mi interesserebbe anche far conoscere un po' di più alle persone che ci stanno ascoltando è cosa fai tu con cicatrici e baci, con queste rotture, con queste cicatrici, con queste ferite. Come si svolge il progetto cicatrici e baci, ritratti di processi di guarigione? In cosa consiste? Magari se ci vuoi raccontare un po' di più. Sì, grazie. Allora, innanzitutto è un lavoro che svolgo principalmente personalmente, quindi il ritratto è, insomma, una cosa personale anche se poi c'è l'opportunità di farlo sotto forma di ritratto di luogo ritratto per una cicatrice che può essere condivisa però diciamo che il lavoro è un dialogo che si instaura tra me e chi ha voglia di raccontarmi la storia della propria cicatrice di una delle proprie cicatrici forse c'è un microfono sì, c'è un microfono acceso, credo Lilian, forse scusa, spero che ripomba un po' grazie Allora, quello che per me è importante è ascoltare la storia la narrazione che ognuno fa della propria cicatrice quello che potrei definirlo così ci sono diversi livelli di narrazione c'è la cronaca di quello che è successo la cronaca di quello che è successo spesso viene elaborata molto viene raccontata, viene descritta la descrivono anche gli altri diciamo il racconto più verbale di ciò che è successo è un tipo di narrazione riguardo a questa cicatrice prendiamo la stessa cicatrice poi c'è comunque un altro dialogo che è quello più interiore perché non tutto può veramente uscire se vogliamo quindi magari c'è anche un dialogo proprio interiore che resta un po' lì perché deve anche trovare il luogo giusto dove esprimersi non sempre c'è secondariamente ci sono anche delle narrazioni no, terzo, è la terza, non la seconda cioè quella narrazione che è più sensoriale, emotiva è una narrazione che addirittura a volte resta completamente incastrata, bloccata da qualche parte spesso nel fisico tra l'altro dove magari dà luogo anche dei disagi perché abbiamo varie modalità di esprimerci appunto se penso ai rituali antichi e anche moderni facciamo un esempio classico e banale la danza no o l'espressione vocale forse una volta più tribalmente ci si spingeva un pochettino c'erano degli spazi in cui questo veniva usato liberamente però ultimamente se vogliamo cioè la danza la musica sono inscatolate in questa dimensione commerciale spesso oppure devi proprio andarti a trovare che ne so una sorta di terapia perché te lo vai a cercare in terapia però in realtà potrebbero essere delle diciamo io mi vedo il mondo un po' più così no che canta e che balla un po' di più per per il semplice desiderio ma neanche desiderio quasi una necessità espressiva di qualcosa che non per forza deve passare per la testa e per le parole e il rituale fondamentalmente in questa zona liminale può farci andare a cercare delle cose ma ci può anche far andare a lasciare delle cose se vogliamo per cui vabbè stavo raccontando cosa faccio sì insomma io allora inizio dialogando o comunque raccogliendo delle delle parti scritte per poi andare in un'elaborazione con la persona che riesce a comprendere un po' tutti questi aspetti della propria narrativa con una responsabilità artistica che io mantengo molto forte nel senso che io ho il mio modo di pormi di dialogare e la mia visione che non posso togliermi quindi io comunque nel dialogo sono io io ti vedo nella mia visione poi io coltivo questa visione in modo che sia il più espansa aperta insomma adatta anche alla situazione perché questo è il mio compito e responsabilità e di modo che quello che possa emergere è quello che deve emergere in quel momento è molto legata anche all'improvvisazione il mio modo di lavorare nel senso che nella pratica della messa in scena e del rituale c'è questa dimensione piuttosto forte del creare un contenitore cioè quando crei un contenitore è come se chiami un tot di energie e di forze che si mettono in campo affinché il tempo è quello cioè tutto comincia a essere cosciente e sa che il tempo dell'espressione è quello ed è lì che andrà a succedere e secondo me questo anche questa creazione dello spazio del campo è molto forte è molto molto rituale perché è il rituale dove vai veramente a sottolineare le cose cioè la la propria attenzione viene espansa per questo dato tempo in cui si sa che inizia e termina il rituale che consiste Barbara in una sessione di fotografie giusto una sessione di photoshooting detto un po' all'inglese perché sì chiaramente c'è non non so dire come sarà nel senso che per tutti è diverso però può essere in studio può essere in natura può essere a casa loro può essere diciamo quello che emerge come necessità e poi tutto si conclude e c'è un momento di attesa da parte della persona perché comunque io elaboro poi le fotografie e di nuovo con la mia interpretazione anche che a servizio ovviamente è più possibile di quello che è il nostro dialogo ma sempre con con la mia presenza e poi c'è la consegna delle foto che rivediamo assieme e e voilà ci si discute ecco questo è il percorso cicatrici e baci difficile da raccontare immagino non è qualcosa probabilmente di così semplice da raccontare proprio perché siamo probabilmente mi vien da dire in una zona come la possiamo chiamare Andrea una zona forse simbolica c'è uno spazio simbolico uno spazio sì fuori dal tempo anche quindi sì è difficile magari parlarne in modo così razionale l'obiettivo stasera era anche un pochino quello di presentare questo progetto per cui c'è anche l'idea di un libro di pubblicare un libro che raccoglie tutti i ritratti o alcuni ritratti di processi di guarigione del progetto di Barbara con l'accompagnamento di alcuni testi quindi stiamo esplorando questo discorso con voi adesso tra un attimino l'idea di aprire il dialogo di aprire la discussione con i presenti con chi vuole partecipare su appunto questo tema del rituale però Andrea ha attivato il microfono secondo me c'era qualcosa da sì per riprendere il linguaggio che avevo utilizzato prima e ricollegarmi invece al progetto di Barbara mi sembra che effettivamente come nei rituali che abbiamo citato prima che erano particolari perché erano di aggregazione ma anche quelli di passaggio in cui i gruppi e le persone mettono in scena effettivamente richiamano la presenza di qualcosa che hanno vissuto quindi mi immagino che attraverso la messa in scena che poi tu fotografi queste persone con il tuo aiuto si chiamano la presenza di qualcos'altro e tu poi la mostri attraverso le tue fotografie non so adesso sto improvvisando riprendendo il linguaggio più strutturato accademico del rituale per rivedere appunto in che modo è una cosa che mi incuriosiva è tu riesci a vedere questa trasformazione questo passaggio tra la messa tra quello che la persona porta la messa in scena e poi quando si rivede ad esempio nella fotografia ci sono dei momenti beh allora innanzitutto è un dialogo quindi è chiaro che per quello che a volte faccio fatica a descriverlo perché io lo vivo ogni volta molto diverso però il processo è lo stesso di fatto quello che io faccio è una sorta di testimonianza per cui quello che è come dire si va veramente si si va lì si va alla cicatrice ma si va in un altro modo perché noi assieme stiamo definendo uno spazio e un rituale che ha anche un senso e uno scopo e il senso e lo scopo è proprio anche di adesso può variare però a grandi linee il concetto è anche di andare a trovare qualcosa che ha bisogno di essere espresso quindi un messaggio che è ancora lì che deve essere espresso o una caratteristica che deve ancora essere sottolineata se vogliamo per me l'importante e lo sguardo più forte che pongo è al processo di guarigione nel senso che l'importante per me è che la persona ritrovi se stessa nella sua miglior forma possibile in quello che già ha messo in campo in una forza ma in una peculiarità qualcosa che già ha messo in campo perché se stiamo parlando di cicatrici già elaborato può essere in parte può essere completamente un trauma e quindi di fatto è proprio uno sguardo che va anche a dare un riconoscimento e il riconoscimento per me è fondamentale e anche la possibilità di andare poi a esporre queste immagini si può fare in privato senza portare le immagini fuori perché quello va bene è anche un lavoro di tutto rispetto comunque ma questa dimensione di uscita finale è come un coronamento che secondo me abbiamo veramente necessità cioè io lo vivo come qualcosa di è proprio una chiusura giusta no perché hai fatto tanto c'è tutto un prezioso lavoro c'è un riconoscimento cioè sei tu e in fondo sei tu cioè è bello ritornare nell'ordinario con questa nuova visione con questa nuova acquisizione e esprimerlo anche se fosse poco perché uno può venire anche solo per curiosità e per giocare voglio dire non è adesso magari l'abbiamo messa parlando del rituale viene anche di andare tanto in profondità però banalmente la cosa può essere anche molto scherzosa cioè io ho fatto un paio di ritratti che erano totalmente divertenti cioè è stato divertente non è che c'era necessità per forza di ma è come dire se noi possiamo raccontare una tragedia greca una che ne so una cosa molto soave poetica o anche una barzelletta però è come se sì è in dubbio vedere un cambiamento ma perché anche domani noi anche adesso stiamo cambiando perché noi stiamo esprimendo questo abbiamo creato questa dimensione di dialogo è sicuramente un passettino che ci traghetta da un'altra parte dopo alcune cose noi non le evidenziamo non abbiamo neanche necessità magari di evidenziarle mentre altre veramente evidenziarle porta espansione ecco espansione potrei dire che è una parola abbastanza corretta e si viene in mente anche guardare no guardare questa riconoscere guardare quindi la fotografia in questo senso è perfetta no che ci permette proprio di guardare riguardare riguardare ancora e anche donare c'è una dimensione di dono secondo me perché riuscire a prepararsi o preparare se stessi per un'espressione pubblica è anche una sorta di dono un pochino cosa ne dite apriamo un po' la discussion Andrea aveva lanciato delle domande all'inizio magari le riprendiamo un attimino sì spiegando appunto i rituali che appunto hai ragione Barbara effettivamente non tutti i rituali li riconosci li vedi come oscuri o profondi appunto prima mi è venuto in mente il carnevale è un rituale abbastanza gioioso di passaggio o anche il matrimonio che tra l'altro è uno di quei rituali di passaggio dove si danza dove si canta magari il matrimonio a cui sono andata non è che si ballava proprio bella musica o si cantavano belle canzoni liberatorie però ecco no la domanda che avevo lanciato prima e si ricollega alla necessità di ritualizzare certe cose che ci succedono nella vita è ci sono dei rituali di passaggio che viviamo che sono socialmente accettati come i matrimoni i funerali i diplomi e invece ci sono dei passaggi dei traumi delle cicatrici dei momenti delle cose che ci accadono che ci trasformano e ci troviamo in queste fasi di transizione in cui prima eravamo una cosa e poi necessariamente appunto perché ci cade un albero sulla casa dobbiamo per forza essere qualcos'altro non siamo più la stessa persona di prima e nessuno ci a livello collettivo a livello sociale ci dice ok adesso ritualizziamo questa cosa adesso facciamo una messa in scena così tu che sia accompagnato in questo passaggio allora la domanda è quali sono i rituali che vi vengono in mente che ci vengono in mente che viviamo e che sono riconosciuti socialmente e quali invece i passaggi della vita più silenziosi che invece non sono ritualizzati a me il primo che viene in mente è ad esempio la malattia che non vi viene ritualizzato non c'è nessuna festa per ritualizzare una malattia eppure ci siamo trasformati ecco quindi lancio io la prima il primo esempio a me è venuta in mente la malattia come cosa che mi piacerebbe ritualizzare posso aggiungerne una per fare un appunto perché magari lì si potrebbe aprire una discussione per un'intera serata comunque di quelle che sono andate perse anche il diventare genitori perché adesso è veramente vabbè io forse ci sono legata per altre per altre cose che porto ma vorrei veramente portare tanto questa elaborazione di cicatrici e baci anche in questa dimensione del diventare genitore diventato molto intimo cioè molto intimo molto personale molto poco di società o comunque c'è anche la dimensione del rituale che quando si perde la vera anima può diventare una serie di cose che si fanno ma un po' poco coscientemente e quasi diventa un ostacolo alla ritualizzazione vera e propria se scusate ma ero da mettere questa cosa mi sono lanciata io però no perché pensavo a quando a volte sì come tu hai detto sì c'era il matrimonio ma la musica non era più così bella no tante cose le facciamo ancora a livello rituale però ogni tanto sono dei gesti che si potrebbero un po' riempire di quella presenza che un po' si rischia di mancare perché abbiamo questo mondo che ci sommerge di immagini di storie degli altri di film quello e la pubblicità insomma sei sempre spinta a sentire le cose in mille modi diversi non c'è più quella unicità che non so ti vivi una cosa quella volta nella vita no ti capita la vedi continuamente come se vivessi quelle di tutti gli altri poi magari finisce che quando sei lì presente nella tua potresti avere la stessa attitudine di quando guardi un film no invece quella è la tua unica occasione in carne e ossa e un po' sfugge non so qui è come se emergesse ancora un altro tema in più che è quello della mancanza di senso di significato di alcuni rituali no appunto si sono un po' svuotati quelli che riconosciamo socialmente sembrano essersi un po' svuotati mi viene da dire adesso così poi non ho nessuna come dire conoscenza in questo senso però se penso appunto al matrimonio a parte che non si sposa più nessuno non so i vostri amici i miei amici non si sposa più nessuno quindi matrimonio è stato uno due matrimoni in tutta la mia vita adulta ecco quindi non è che hai proprio delle un esempio però mi stavate dicendo adesso si parlava appunto che magari in alcuni casi questi rituali sono stati un po' svuotati o non li percepiamo esistono ma allora o non esiste veramente più un rituale veramente riconosciuto socialmente e dotato veramente di un significato profondo e quindi riconosciuto veramente come 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 rituale magari sì no è una riflessione così mi viene da dire che magari in realtà sì questo senso di collettività si sta andando un po' a perdere no questa cosa dell'atto poetico no che noi abbiamo messo secondo me è un po' la diciamo la la chiave di lettura è il fatto che se c'è la poetica come stato dell'essere dell'esserci perché un un atto poetico uno stato poetico non lo puoi fare senza presenza cioè è assolutamente impossibile è questo che vogliamo richiamare come sorta cioè il vero rituale uno può farsi il matrimonio classico così come adesso funziona ma è presente vive la sua poetica allora sì e c'è magari c'è solo per uno due tre invitati la sposa lo sposo magari non c'è per tutti però per chi riesce a vivere questo status questo momento questa presenza che è poetica allora c'è io volevo andare a recuperare ma poi lo possiamo fare anche dopo così lasciamo parlare anche gli altri che stiamo parlando solo noi no mi piacerebbe magari alla fine o tra un po' a un certo punto leggere quel passaggio che ci avevi mandato Andrea proprio sul rituale come atto poetico perché per me era stato illuminante no e poi dopo da lì un po' anche a sottolineare quello che stai dicendo Barbara magari teniamocelo lì ricordiamoci di leggerlo io sono lo trovo tu però probabilmente Andrea ce l'hai sotto mano sì no io vado avanti col giro a me verrebbe da dire la menopausa io adesso sento sempre più persone che si stanno e vedendo Salvino che spalanca gli occhi no ecco questo strano è un rituale anche quello lì ormai sì è un rituale è un passaggio che però non viene tanto riconosciuto dal mio punto di vista non se ne parla molto io mi sto avvicinando piano piano a quella che è l'età della menopausa ma ho chiesto a mia madre ma mamma ma tu quando è che sei andata in menopausa quanti anni avevi come l'hai vissuta ah boh non lo so non quindi è come se appunto rispetto a tornando al discorso prima dello sguardo del guardare mancasse un pochino rispetto a questo passaggio della vita delle donne eh eh il guardare la possibilità di 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 guardare questa fase e vedo che Gabriella ha acceso la telecamera secondo me ha qualcosa da dirci buonasera mi stavo ascoltando ho acceso adesso la telecamera ma io più che questo discorso sicuramente dalla menopausa che potrebbe essere un bel rituale da effettuare mi viene invece in mente il rituale che mai viene ad essere effettuato eh per quando uno cambia letteralmente la propria città eh spesso a livello lavorativo a volte a livello per amore eh a volte per una serie di situazioni si deve cambiare città e non si cambia la città magari diciamo da 40-50 chilometri ma magari possono anche essere molti di più o addirittura distanze eh notevoli e questo è un uno shock almeno io parlo per me per una cicatrice che ho portato avanti per parecchio ho cambiato città a livello di eh amore perché l'ho cambiata in questo caso per amore in realtà cento e cinquanta chilometri quindi se vogliamo non sono così tantissimi ma sono stati tanti premetto abituata a girare per lavoro e tuttora continuo a girare per lavoro tanto è vero che infatti avevo la telecamera spenta perché dovevo ancora arrivare a casa intanto mi stavo ascoltando quindi chilometri sempre fatti e punti dove ad un certo punto andavo a fermarmi nei vari alberghi quotidianamente quindi addirittura su cinque giorni cambiavo quattro alberghi quindi girovaga se vogliamo ma quando ho dovuto cambiare città realmente e quindi trasferirmi da Torino ad Albisola in questo caso Savona quindi in Liguria e per me sia stato veramente un grande shock e questa cicatrice l'ho portata avanti anche per tanto tempo andando proprio addirittura a non riuscire ad adattarmi a quello che poteva essere non tanto la città perché Savona secondo me è bellissima ma a chi fa parte di Savona cioè ai cittadini all'impatto con con i Liguri all'impatto con la mentalità letteralmente differente ma a livello anche di famiglia Ligure con tempi scanditi letteralmente in modo differenti da quelli che potevano essere i miei a Torino quindi questa secondo me potrebbe essere una cicatrice da andare anche a vedere per fare un tipo di rituale che magari non è mai visto come qualcosa di shock cicatrice chiamiamola un po' come come volete insomma perché chiamo cicatrice proprio perché Barbara si occupa di questo quindi la chiamiamo in questo modo però secondo me questo è un rituale che non viene assolutamente mai tenuto in considerazione e invece secondo me varrebbe la pena ecco poter andare a fare un'azione di questo genere su un rituale di questo genere anche perché ci si separa da qualcosa si transita e ci si deve aggregare in un gruppo assolutamente aggregare è una parola grossa in Liguria cioè io ho impiegato dunque adesso sono vent'anni che abito qua ho deciso di rimanere anche qua lo stesso malgrado l'amore è finito come dico sempre sono trasferita per amore poi l'amore è finito però ne ho uno ancora più grande che è mia figlia che è nata qua in Liguria e quindi di conseguenza sono rimasta per lei e lei però è andata ad abitare a Turino quindi per studi ma nella casa tra l'altro che era la mia quindi sembra una cosa un po' strana però devo dire che ormai sono vent'anni più o meno che abito qua la mia cicatrice sono riuscita ad elaborarla da un forse quattro anni a questa parte direi di sì hai trovato un modo rituale anche tu o per elaborarla sì l'ho trovato nel senso che l'ho trovato grazie ad una persona che ha iniziato anche questa persona non non essendo nata qui né tantomeno di origine libre ma di origine meridionale che però qui forse da molti più anni rispetto a quelli che possono essere i miei e quindi ha vissuto proprio la parte diciamo della scuola e quindi probabilmente quella ha dato l'opportunità di avere aggregazione e quindi non questo sciocchio magari come poteva essere il mio già ad adulta eccetera perché ha iniziato a portarmi in giro facendomi vedere alcuni posti della Liguria e narrandomi alcune parti storiche della Liguria ecco forse attraverso quest'amore tra virgolette che mi ha passato per la storia forse per l'amore che mi ha trasmesso nelle spiegazioni particolari di determinati tipi di piccole cittadine o quello che poteva essere capitato o chi poteva esserci passato eccetera ecco ho iniziato ad avere questo switch mettiamolo così e ho fatto pace come dico io con i Liguri con la Liguria e con me stesso a sentirlo dire così sembra come se fosse rimasta in sospesa la narrazione quando si è ricollegata a un tessuto dalla narrazione del tessuto del luogo no perché è come cioè da come l'hai detto no mi ha risuonato come una narrazione che fosse rimasta come un po' in sospeso che di fatto come dico non ha rituale eppure come comunità una volta cioè quando qualcuno partiva per andare lontano c'erano rituali credo che forse Andrea cioè non so io ho visto l'ho visto più nei film forse però mi ricordo i rituali dei paesi soprattutto un po' più rurali no quando qualcuno partiva partiva un membro della comunità e quindi c'era proprio un rituale c'era un saluto cioè anche anche col rituale del pianto no magari non era per forza un pianto vero anche se un po' sì perché comunque c'era questo un po' gruppo famiglia no e noi invece adesso comunque ci confrontiamo con comunque un'evoluzione che non è che dobbiamo cioè non dico che sia brutta perché voglio dire stiamo comunque evolvendo però stiamo evolvendo in questa cosa in cui siamo più individuali quindi quando una persona parte è già come dire già non è così parte dell'organismo del del paesino no siamo già un po' più indipendenti un po' più assistanti quindi dovremmo impegnarci di più a crearci di noi questi rituali insomma mi sa una cosa interessante che ho notato adesso mentre parlavi tu Barbara prima Gabriella è come se nella fase di prima del salto prima del passaggio sia importante comunque la presenza di qualcuno che ci saluta che ci accompagna che ci vai che andrà tutto bene ci mancherai piangiamo ti vogliamo bene scrivici comunque la presenza di qualcuno probabilmente il salto quello lo dobbiamo fare da soli ci tocca però è l'atterraggio che per Gabriella magari è arrivato tanto tempo dopo però l'atterraggio la possibilità che ci sia qualcuno che ci accompagni nell'atterraggio cioè nell'accoglierci nello spazio adesso Andrea non mi ricordo più le tre fasi come le avevi definite però ecco la fase preliminale che però si chiamava di separazione quindi sia in una fase di separazione che in una fase poi di aggregazione o almeno in una delle due fasi che ci sia la presenza di qualcuno mi verrebbe da dire mi chiedo forse è importante in questo senso anche perché il mondo è sempre lo stesso siamo noi che cambiamo in questo salto cioè il salto ci fa cambiare quindi deve essere per forza un passaggio individuale comunque però forse collettivo non è una parola giusta però che abbia anche una sua parte sociale condivisa da qualche parte o prima o dopo o prima del salto o dopo ma che ci sia qualcuno è una sorta di beh chiaramente anche anche in tutto questo estremo individualismo in cui stiamo andando non vuol dire che le relazioni non ci sono anzi comunque siamo animali sociali si può dire vabbè detta un po' così però comunque la comunicazione è fondamentale e affinché ci sia la comunicazione qualcun altro ci deve essere cioè puoi parlare con te stesso per carità poi eccetera però fondamentalmente la comunicazione si attua così e anche fosse solo una persona che fa parte del tuo rituale alla partenza è una sola che sia all'arrivo se vogliamo o come ripetimi di nuovo come si dice nella separazione nell'aggregazione giusto però fatto sta che è vero io io lo penso che sia necessario ma perché è come se fosse strutturata così la realtà cioè ognuno ha il proprio cosmo interiore però a un certo punto questi questi universi si si incontrano cioè un minimo si osservano anche se non dove anche senza tante parole però si osservano come tu dicevi prima al vedere sono le sono strutture che utilizziamo che da cui non ci possiamo distaccare nasciamo ci distacchiamo dalla madre siamo due cose che si guardano cose comunque per intenderci e da lì che si comincia a crescere un po' in questo no? questa separazione poi c'è tutto il viaggio c'è sempre scusa c'è sempre in mezzo un po' la morte il distacco adesso mi è venuto in mente scusate io non sono intervinto prima perché sono un po' profano di questo argomento e non volevo spostare il vostro focus da un'altra parte perché io sono abbastanza fisico quindi faccio sempre molta fatica nel pensare di cominciare però poi quando voi parlate mi vengono in mente centomila cose non mille centomila cose per le quali vorrei dire qualcosa però poi dico no lascio dire loro perché magari nonostante sia io sia uno comunque a cui piace molto parlare e mi veniva in mente proprio parlando prima di quello che diceva Gabriella che partire a volte c'era qualcuno che diceva partire vuol sempre dire un po' morire forse è una canzone di Casa Della dell'85 se non erro partire devo partire lasciare no non è dei Casa Della no lasciare gli occhi verdi di mia madre ti ricordi vai a vedere e di chi è che va bene comunque non è importante di chi fosse comunque la canzone diceva un po' queste cose qui va bene poi comunque per quanto riguarda i rituali penso che siano sempre legati un po' al fatto che c'è tutti i rituali di passaggio quindi la separazione ma anche l'essere genitore e quindi mi viene in mente la maternità di cui parlava prima Barbara e sempre se c'è rituale c'è una sorta di accettazione ma anche della morte in certi paesi del mondo festeggiano anche quando uno muore perché la morte fa parte della vita però mi vengono in mente non ci sono rituali ma ci sono tanti passaggi nella vita in cui per riallacciarmi alla materia di Barbara ci sono delle cicatrici c'è l'adolescenza la prima uscita nel mondo i primi cinque anni di elementare il passaggio il cambiamento con le scuole superiore e quant'altro no quindi il rituale non è nient'altro dal mio punto di vista che è l'accettazione di un qualcosa che ti fa sopprire quindi che ti mette in un'altra dimensione quindi da un certo punto di vista c'è la morte quindi partire vuol dire morire per poi andare a nascere da un'altra parte no quindi io per esperienza dico io sono siciliano e da sempre ho visto i miei nonni piangere per i miei zii che sono andati via dalla Sicilia e sono andati a Milano a lavorare adesso mi sono tutti qui a Milano però ogni volta che si partiva o si arrivava erano lacrime da disperati come se se si morisse non ci si vedesse più no non avere più il controllo di questa dimensione perché colui che se n'è andato è andato in un'altra dimensione per vivere no per magari guarire quella cicatrice che nel posto in cui stava ha avuto o aveva e quindi riallacciandomi al discorso di Barbara poi visto che Andrea prima aveva posto la domanda se non ero a Barbara dicendo o forse perdonami non vedete il nome Dalia Dalia ma va bene ma va bene anche Dalia sì perdonami vedo poco io sono un po' ciecato diceva Barbara se poi in effetti le persone con le quali entro in contatto con te Barbara poi alla fine sì una volta che tu entri in contatto con loro e crei questa sorta di rapport una volta che viene poi realizzato questa 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 fotografia questa cosa se tu riesci a capire attraverso di loro che loro mi vengono in mente anche quei tatuaggi ma io ho un po' di tatuaggi e ogni mio tatuaggio è stato fatto in un periodo della vita in cui c'era una cicatrice quindi fatto forte del fatto che quella cosa è risolta mi faccio il tatuaggio che rimane come dire questo è un passaggio della mia vita no e quindi la mia domanda era uguale a quella di Andrea o di Dalia ma poi in effetti tu riesci a percepire in maniera scherzosa giocosa piuttosto che seria e seriosa perdona il gioco di parole se la persona che entra in contatto con te poi alla fine tu percepisci che lei attraverso questa fotografia lo fa perché ha risolto quindi diventa uno step della sua vita di risoluzione beh allora risoluzione forse è una gran parola però nel senso dipende come la vogliamo intendere perché comunque ogni step ogni passaggio nella vita è una piccola risoluzione perdonami comunque accettazione accettazione sì ma allora perché non puoi cancellare le cicatrici rimangono devi imparare di viverci e quello intendo risoluzione in quel senso sì ok ma infatti quando hai fatto l'esempio dei tatuaggi a me risuona molto infatti l'ho sempre cioè a me io non sono non ho tattoo granché di tatuaggi a parte due piccoli ma è una cultura che ho sempre mi ha sempre affascinato infatti tant'è che facevo i tatuaggi all'enne tanti anni fa sui corpi perché quelli non sono permanenti però comunque sono significati sono significati e quindi alla fine è un percorso con cicatrici e baci piuttosto breve quindi veramente hai quello che hai bisogno se vuoi no cioè io credo che in quel dialogo venga espresso quello che deve essere espresso in quel momento e che ti porta a fare cioè ad arrivare a un punto è un punto alla fine è come camminare nella vita è proprio è una tappa ma quindi scusami se te lo chiedo cosa vuol dire per te cicatrice cosa vuol dire vuol dire dolore o vuol dire guarigione qual è a cosa si avvicina di più questo termine secondo il tuo punto di vista la cicatrice è proprio un segno indelebile fondamentalmente è un segno indelebile che è una qualcosa che ormai è segnato in noi il segno c'è da lì si può partire per grandi viaggi nel senso che la cicatrice la possiamo usare come cioè come punto di partenza sia per se uno decide di soffrire nella sua vita una cicatrice la può usare solo per ricordare continuamente il dolore però uno può decidere invece di usare la cicatrice per ricordarsi della propria forza cioè in realtà la cicatrice in sé è neutra significa solo il fatto che c'è stata una rottura qualcosa di che ha lasciato un segno indelebile fondamentalmente e noi siamo liberi in fondo rispetto alla cicatrice perché anche fosse una cosa grave e invalidante nonostante tutto non è la cicatrice o il fatto in sé che definisce come noi la affrontiamo perché ci sono persone che per piccole cicatrici possono restare anche incastrate in dei loop e persone che invece di fronte a grandi tragedie quindi anche grandi cicatrici hanno trovato delle forze enormi dentro di loro quindi di fatto io la interpreto così come un segno indelebile neutro fondamentalmente e noi come creatori andiamo a fare quello che decidiamo di fare in fondo con questa cicatrice quello che possiamo a volte serve anche un po' uno sguardo diverso cioè io posso essere uno specchio o uno sguardo e anche uno sguardo diverso che può portarti magari in una dimensione che tu non avevi ancora osservato della tua stessa storia potrebbe essere d'aiuto per quello parlo di responsabilità artistica perché comunque in qualche modo io ci metto del mio intento e del mio sguardo e ovviamente per me per come sono lo metto a disposizione perché io non ho da raccontare qualcosa di mio la storia di chi viene e la sua cicatrice per cui per me diventa una cosa professionale ma che però vuole arrivare a espandere insomma andare lì a me piace ricercare quindi se c'è qualcosa che deve emergere che vedo che è lì che può essere un po' sottolineata estrapolata o essere utile mi piace andare a osservare lì e portare lì lo sguardo cioè in realtà sì perché io osservo però fondamentalmente l'osservazione più grande quella che riesce a fare la persona di sé infatti io non sono protagonista sono dalla parte del regista la messa in scena il ritratto e tutte le fasi comunque le passa chi viene a raccontarmi la storia il volto è il suo io non la interpreto per loro questo quindi è anche un processo di co-costruzione di questa scena in qualche modo io lancio degli input e la la risposta al mio input è è la è la verità della persona in fondo che la sua insomma quello che vuole rispondere sì quello che vuole rispondere e poi la trovi no scusa scusa no volevo sapere da Barbara capire perché sono abbastanza curioso capire cioè dall'alto della sua esperienza se a volte se le capita al cospetto di 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 colui o con lei che magari ti chiedono di fare questo tipo di servizio ai quali tu fai scegliere o proponi qualcosa se ti capita spesso di essere nella sua sulla stessa linea comunque magari di proporre qualcosa che lui accetta lei accetta e ti dice sì mi rivedo in questa cosa oppure al contrario magari lei sceglie o lui sceglie qualcosa per cui tu dici cavolo dentro di te non c'entra nulla però se tu ci vedi questa cosa va bene capita ti capitato allora premezzo che adesso come l'hai descritta non no forse perché non ho un giudizio quindi a me non interessa cioè anche se io dico una cosa non so non lo so io adesso io non vivo il processo in questo modo perché come dire non posso farmi delle aspettative cioè per me va bene qualsiasi risposta alla fine si lavora con quello che arriva non so se magari non ho afferrato bene la domanda ma vuoi che te la riformuli magari mi sono espresso male provo a riformulartela cioè se io dovessi venire da te e facciamo due chiacchiere conoscitive io ti porto in essere la mia la mia cicatrice motivo per cui tu sposi un po' quello che io ti dico e dal tuo punto di vista mi proponi delle cose giusto? io magari non valutando quello che tu mi proponi non lo non lo ritengo simile a quello che è la mia cicatrice no? magari vedo qualcos'altro sull'angolo ti guarda io preferisco quella roba lì e tu dici ok certo se tu ci rivedi in quello va bene era un pochino questo il il ok allora dipende dal dal momento perché allora se stiamo parlando dal momento di preparazione allora è difficile perché non è che io propongo una soluzione io discuto non discuto neanche fondamentalmente io più che altro do dei compiti che la persona può o non può assolvere se vogliamo do degli input e e comunque il fatto che segua non segua gli input li segua a modo suo per me non è non è una cosa che io giudico per cui se una persona un input non lo raccoglie non lo raccoglie fondamentalmente non è importante perché il dialogo va avanti comunque anche durante la messa in scena c'è la presenza quindi si può anche darsi che se uno non sente un un suggerimento ma la cosa cade da sé non è non c'è forzatura quindi si passa fluidamente eventualmente a qualcos'altro se invece parliamo di quando le fotografie sono pronte e io consegno le fotografie allora in quel caso potrebbe esserci una reazione del tipo però io qua non mi rivedo allora a me è successo una volta sola che ho dovuto mettere a posto una foto ma era una cosa molto semplice mi ha solo chiesto guarda mi ricordo che che c'erano tante foto se possiamo abbiamo cambiato un una foto un un come dire praticamente la stessa cosa si vedeva cioè non so se metti che la faccia il volto scusa era messo per così e lei lo voleva un po' più per così cioè una roba da pochi millimetri perché voleva vedersi nella sua bellezza voilà niente di che si fa ma è giusto è giusto perché io non che tutto è una proposta e un paio di volte è capitato che sul primo momento ho guardato le foto e ho detto però io non so non mi vedo tanto però poi la cosa è cioè ho detto ma guarda se andiamo avanti le metto a posto le rifaccio ma però dopo no però guarda ci ho ripensato no in fondo va bene quindi ma per carità poteva anche capitare invece di no cioè per me non è una forzatura in ogni caso che si voglia andare avanti metterla a posto o che si decida magari non sono completamente soddisfatta della di come è andata e si chiude così non è un problema perché comunque c'è stato un dialogo e comunque non è evidente sempre vederse cioè non per forza perché ho fatto il lavoro e perché ho presentato questa foto cioè a volte proprio come cosa che può essere un ulteriore step da affrontare perché magari sono emerse cose che non hai mai fatto emergere prima ma non ti sei mai visto in quel ruolo non ti sei mai visto in quella posizione e magari c'è un attimo di per quello dico io mi tengo la responsabilità artistica e comunque niente è forzato tutto può essere portato a compimento insomma fino alla fine nel modo giusto io le posso anche rifare tutte le foto ma voi avete già visto così per curiosità una foto il risultato di uno di questi ritratti Salvino Gabriella avete già visti qualcosa ci ha fatto vedere Barbara sì sì la volta precedente perché secondo me c'è anche la componente della poi della adesso non so il termine tecnico però della rielaborazione se vogliamo magari condividerne una sì perché non è una semplice foto punto no c'è tutto poi se Barbara magari hai voglia di condividerne una c'è tutto l'aspetto di elaborazione ecco per esempio adesso è vero che quale taglia un pochettino ecco quindi sai che in funzione di questa cosa qua io che già la volta scorsa ho trovato molto interessante e visto che io vi ho anticipato che mi occupo di imbiancature ma io non vorrei limitarmi a fare le solite imbiancature mediocre avevo pensato a questa cosa qui di Barbara se mi piacerebbe tipo non so sapere se potessero fare anche dei tipo dei come si chiamano una carta da parati esatto bravissima da mettere dietro la parete di un letto cioè uno vuole invece avere la propria foto vuole una 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 così nella quale si rivede sarebbe bellissimo farlo bello ma di fatto una cosa fantastica di fatto queste immagini trovo un po' condividerle non so se quasi quasi è meglio aprirle dai dai file perché vedo che è un po' prendole si vedono io adesso per esempio le ho allargate questa qua è bellissima per esempio però si vede vero che si vede tutta la pagina magari adesso non riesco più a ah ok perché scusate c'ho gli strumenti di zoom ecco mi coprivano le cose c'è l'istrumentazione di zoom che quando ti copre la barra sopra esatto non trovavo più niente non capivo dove ero finita vabbè no adesso sì magari ah ecco magari questo per esempio qua è stato fatto al fiume sì le immagini si possono stampare su vari supporti se uno vuole il proprio ritratto ci sono proprio dei siti io avevo anche fatto uno shop a dire la verità a un certo punto però che sono cose un po' più personali però alcuni mi hanno anche dato l'ok per esempio uno di questi qua sono dei siti dove te li stampano un po' dove vuoi ok magari qua c'è meno eh vabbè io stavo cercando le immagini cerchiamone ecco per esempio questa è una di cicatrici baci un po' particolare perché qua non c'è il ritratto ma c'è un'opera fatta dal da 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 e vedi loro te le mettono dove vuoi no realmente come puoi vedere qua fa un po' ridere però vabbè perché alcune non so le mettono un po' ovunque no però solo per dire no vabbè si possono mettere dove vuoi questi le avevo fatte un po' stile magari questo è più facile ah c'è anche la musichetta se vuoi ingrandirlo toglievo un attimo la musichetta come si fa così si ecco così vediamo un po' lo vedo un po' sgranata però vabbè bella me l'avevo messa su facebook ma no questa qua però non me la posso mettere su facebook perché mi avevano chiuso la pagina agli inizi per nudità bella sì all'inizio quando ho fatto i primi test in realtà selezionavo una sola immagine e la riproponevo con tre colori diversi come a vedere le sfumature di alcune emozioni poi chiaramente la cosa si è approfondita e era troppo poco per cui adesso c'è un trittico per ognuno cioè non c'è più questa questa era la dimensione originaria dove sono state praticamente le prime proprio no e lì il gioco era un po' più sottile poi dopo ho iniziato a vedere più livelli e per cui non era più così importante no dare solo la diversità emotiva data dal colore quindi sono diventati dei dei trittici proprio ecco qua si vede cominciano a essere queste che sono già tre diverse prospettive diciamo molto belle comunque sono opere d'art queste e tra l'altro questa è Ada mia figlia ho voluto partecipare anche lei sì sono non ho avuto un grande intento estetico nel senso che il focus principale era proprio quello di raccontare raccontare questa forza questo processo di guarigione eccetera quindi che per me è nato un po' come una necessità di andare in questo campo di esplorazione e riuscire a esprimerlo per cui per me continuo la ricerca è una scuola anche per me no eh questa è bellissima ma io devo dire che sono stupende tutte nel senso sei comunque pensando alla domanda che ha fatto Salvino prima tu in realtà non devi per forza essere neutra nel vero senso della parola perché ascolti e trasformi quello che può essere con colori situazioni eccetera quindi la persona ad un certo punto che si fa fotografare trarre da quello che possono essere determinati tipi di eh azioni che tu vai a chiedere eh secondo me si deve lasciare andare e non può poi dire preferirei fare questo anziché quell'altro magari trovo pure dire ma se poi a un certo punto viene da te proprio perché deve elaborare deve tirar fuori deve in qualche modo eh eliminare queste queste cicatrici e rinascere e deve lasciarsi andare e consigliare un po' come quando eventualmente non so vai da un medico o dici quello che possono essere le tue problematiche e il medico ti consiglia sia che cosa devi fare sia che cosa devi prendere e non ti viene in mente di dire no eh io preferirei prendere questo anziché quello che tu mi stai dando quindi cioè se bisogna guarire bisogna lavorare bisogna guarire bisogna lasciarsi andare e consigliare da chi ti occupa di questo ecco secondo me anche se vuoi giocare alla fine no anche se vuoi giocare cioè vale la stessa cosa no se non certo ma Barbara poi per esempio queste sovrapposizioni vengono decise insieme alla persona oppure tu fai delle foto e poi elabori la foto e gliela mostri sì la foto la elaboro io ma si decide insieme per esempio il cuore in mano no quello la persona non ce l'ha veramente no no queste sono cose che nella maggior parte dei casi io faccio proprio portare delle cose ah ecco queste sono le prime serie dopo ce ne sono altre che però è carino farle andare avanti mentre chiacchieriamo trovo che sia ah se vuole ecco quindi comunque gli elementi simbolici vengono comunque portati dalla persona quindi in un qualche modo in questo senso vedo che c'è una una co-costruzione no sì allora quello che quello che succede è che in pratica quando si presenta cioè quando c'è il momento del photoshooting c'è proprio un'indicazione di trovare portare scegliere cioè quello è proprio una uno di sicuramente tra i compiti c'è anche quello anche scegliere il proprio vestiario se vuoi no vestiti oggetti quindi sì questo è un po' il luogo il luogo di solito lo scelgo io però potrebbe potrebbe essere che chiedo eccetera volevo mettere quella di prima ma invece è ritornata intanto che tu cerchi io chiederei ad Andrea che sono curiosa questa questa dimensione simbolica dove la persona va e sceglie l'oggetto il vestito ecco in che modo si inserisce nel discorso che facevi prima sul rituale beh i simboli gli oggetti stanno sempre per qualcos'altro cioè si scelgono degli oggetti proprio per imitare prima parlavamo di mimesi che è imitazione e quindi si sceglie di indossare un determinato vestito si sceglie un determinato oggetto si sceglie una maschera anche proprio per incorporare per richiamare dentro di sé qualcos'altro che è fuori e per sentire la presenza di questo qualcos'altro dentro di noi pur rimanendo noi stessi noi capiamo qualcosa attraverso questo processo di imitazione capiamo qualcosa del mondo capiamo qualcosa di noi capiamo qualcosa di quello che c'è successo o ci sta succedendo direi che è a questo che servono i simboli la maschera anche se penso una volta tu Barbara hai parlato della maschera del gatto però tante maschere che si indossano durante i rituali stanno a darci la possibilità di essere sempre noi ma anche allo stesso tempo qualcos'altro da noi per capire qualcosa in più il simbolo che ruolo ha nel rituale di passaggio il simbolo ad esempio in generale no è quello che ci stai dicendo adesso immagino sì sì è quello quindi è proprio questo strumento quasi è come se il simbolo fosse uno strumento per entrare nella mimesi e quindi permettere la ritualizzazione di di un passaggio di un'emozione di sì 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 no l'oggetto simboleggia sempre qualcos'altro cioè rimanda sempre a qualcos'altro ad esempio se penso al rito di separazione nell'estrema unzione che è un rituale di passaggio vado un po' vado sempre sull'oscuro però fa sempre effetto si mette l'olio sulla fronte anche quello è un simbolo un gesto simbolico che segna una benedizione e segna l'effettivo passaggio l'olio è un oggetto simbolico in quel caso che segna la separazione basta trovo interessante qui che ognuno scelga i suoi simboli no quindi non c'è un simbolo un gesto uguale per tutti come quello per esempio dell'estrema unzione che hai fatto tu adesso ma che appunto in questo processo che propone Barbara la persona possa veramente avere anche un ruolo attivo e trovo che sempre di più il giorno d'oggi ci viene chiesto di autodeterminarci in un qualche modo no quindi di uscire da delle prassi da appunto questi rituali collettivi che conosciamo e che sappiamo come funzionano e di trovare un po' anche il nostro no per esempio io penso a me adesso mi viene in mente una cosa mi sono sposata ma io non ho mai avuto la fede noi non abbiamo la fede ma perché io non avevo voglia di avere sempre un anello al dito non scomodo no ma è una cosa veramente banale però mi sono presa il diritto se vogliamo di personalizzare anche di personalizzare questo rituale e trovo che qui la cosa interessante sia veramente quella che chiaramente con il sostegno di Barbara e della sua competenza artistica e anche in un qualche modo di coach perché se non sbaglio Barbara ti stai formando anche come coach di accompagnare questa ritualizzazione con queste competenze molto pertinenti poi quindi questo lo trovo veramente molto interessante del tuo progetto il fatto che veramente ognuno possa scegliere come rappresentare questo passaggio con il tuo aiuto con il tuo sostegno però ecco appunto immagino gli dai il compito gli dici porta non so adesso immagino che vada così degli oggetti che ti ricordano che rappresentino quale potrebbe essere il compito che gli dai per esempio rispetto al portare gli oggetti cosa cosa gli dici sì sempre premesso che restiamo sempre in un ambito di dialogo perché sì è vero io dico compito perché ovviamente per dare una sì per capirci no le parole sono anche loro dei simboli che vogliamo sì è vero che compito diciamo input dai anche le parole essendo che sono simboli le usiamo per capirci insomma per definire un po' di concentrare un po' di informazione voilà però sì allora e io chiaramente mi faccio un'immagine quando mi viene raccontata la storia io do anche un formulario perché ci tengo anche che venga scritta in parte e scusate un orario e e quindi io mi faccio un'immagine ma non non questa immagine che io mi faccio è solo come dire una traccia e il compito se vogliamo è una sorta di indagine cioè io posso darti un compito per qualcosa che vorrei che tu mi hai già detto è come se io leggessi un po' tra le righe quello che tu mi stai dicendo e cerco di farlo emergere più forte quindi se che ne so è emerso proprio un concetto qualcosa legato ipotesi ecco non lo so mettiamo qua adesso non dico che è andata così però vedo che ho fatto portare un coltello c'è un coltello probabilmente in questo racconto nelle parole c'era qualcosa di tagliente o c'era qualcosa che dava l'impressione di dover essere tagliato non lo so e quindi in qualche modo avrò formulato la domanda perché dico non ricordo anche perché io poi distruggo le cose perché per me una volta finito il processo quello che resta sono solo queste immagini non c'è ecco archiviazione se vogliamo e quindi avrò fatto una domanda in modo che venisse portato l'oggetto che per lei significava questa azione o questa qualità deriva tutto da da quello cioè parte proprio come un dialogo quindi per quello che sono molto diverse le cose e poi a volte ho delle immagini abbastanza forti io le propongo le propongo le discuto cioè quando la persona arriva per il photoshooting perché perché quello è un po' il gioco ecco è proprio un po' lì qua bisogna è come se loro sono gli attori io sono il regista però con una particolarità un po' diversa che sono il regista che mette in scena la loro storia non la mia ecco un po' che la particolarità è quella forse però non però il ruolo è quello quindi di fatto io il mio input le mie immagini non le posso fermare neanche è anche giusto è anche quello che io posso portare come come offerta di creare questa sintesi visiva che a volte magari non è così chiara ma a volte ho in mente piuttosto la scena cosa cosa far fare ma ancora non ha una struttura così forte ecco eh sì c'è il dialogo di mezzo quindi è difficile descrivere un dialogo prima che ci sia stato bene non so se magari c'è qualcuno che voglia ancora di chiedere qualcosa o di aggiungere qualcosa sicuramente non è un discorso che si può chiudere qui stasera perché sono emersi tanti tanti elementi l'idea di questo ciclo di incontri è anche di andare avanti da quello che emerge dai vari incontri di andare avanti a magari sviluppare certi certe tematiche anche sulla base dei vostri input quindi possiamo la discussione dell'evento può rimanere aperta mi verrebbe da dire così che se c'è qualcuno che vuole proporre qualche sviluppo è benvenuto a me personalmente non mi viene in mente nulla di particolare perché se non appunto la prima cosa che mi viene in mente è mi piacerebbe provare a fare qualcosa con Barbara e comunque lo diciamo sempre vero Barbie perché queste queste foto sono sono veramente molto molto particolari e pensare a che cosa riesce a capire e estrappolare da quello che può essere un un dialogo un discorso è veramente qualcosa di molto bello e molto interessante quindi altre cose c'è domande in questo momento non me ne vengono in mente ecco se posso a me forse piacerebbe restare ancora su questo argomento però chiedo Andrea cosa ne pensa perché noi abbiamo un po' fatto una diciamo è come se abbiamo parlato così a grandi linee di questo però se dovessimo addentrarci un pochettino di più sulla questione atto poetico potrebbe diventare interessante parlare parlare un po' degli stati di coscienza e degli stati dell'essere che poi va a generare all'entrare nel rituale perché appunto quello che ha il rituale antropologico proprio strutturato eccetera con comunque il processo artistico se vogliamo hanno questa caratteristica anche che magari può essere interessante approfondire un po' di più perché è proprio quella coscienza ordinaria straordinaria insomma l'abbiamo un attimo scalfito appena appena però potrebbe essere anche argomento da approfondire ecco diciamo beh ci sono tante cose che mi vengono in mente hai detto quattro frasi mi sono venute in mente mille cose ho pensato agli strumenti rituali che spesso vengono scambiati come strumenti come oggetti artistici belli da vedere ho pensato alle maschere che vengono appese in verità hanno una forza all'interno del rituale incredibile perché dà la possibilità di trasformarsi per un breve lasso di tempo in una creatura anche in un animale in una pianta in un essere è molto potente e ha il potere anche di mandarti in trance e quindi di alterare il tuo stato di coscienza e farti conoscere sempre rimanendo te stesso probabilmente un'altra forma un altro modo di essere te stesso già mi sono venute in mente queste due cose si può entrare nel rituale anche in questo modo andando a indagare le trasformazioni che avvengono all'interno del rituale proprio a livello di stato di coscienza sì e come succede tra l'altro ci possiamo anche fare questa domanda come è possibile che si arriva a questo stato di coscienza questa trasformazione alle volte danzando ci sono anche dei rituali mi viene in mente i panighiri che fanno in Grecia che sono queste danze che fanno durante la notte che durano tutta la notte si danza in cerchio in maniera collettiva spesso succede come sia possibile che si arriva a questo stato di coscienza questa trance collettiva magari c'è una spiegazione biologica ma io indagherei quella più culturale eh sì perché è proprio questo riuscire a fare questo shift e spostamento di coscienza ti permette di vedere le cose come rinnovate ecco lì c'è di nuovo il concetto di morte come aveva già anche intuito visto Salvino perché c'è questa morte di una parte di sé essere capaci di lasciarla andare poi magari non è morta per sempre però è un po' una morte quando molli tutto quello che ti dà sicurezza per entrare in uno stato liminale che non sai dove ti porterà finché non è terminato e ti chiedi sempre ma tornerò come era prima tornerò diversa e ci vuole un certo coraggio però un bel coraggio no? in fondo a volte la paura diciamo come si può dire è mal interpretata ecco è giusto un brivido non dovrebbe essere così tanto un ostacolo cioè un conto se devi avere paura quella che non ti fa mettere la mano sul fuoco siamo d'accordo ok per altri casi magari bello addentrarsi nel cambiamento degli stati di coscienza sì sulla base anche di questo che state dicendo mi viene da dire un'altra domanda appunto come succede che si si altera lo stato di coscienza e se non siamo più in grado di farlo nei rituali socialmente condivisi perché questi rituali non sono più effettivamente così condivisi o come dicevamo prima si sono svuotati un po' di significato come accedere a questi stati cioè li creiamo noi li creiamo intenzionalmente questi momenti come crearli come far sì che siano poi effettivamente trasformativi no mi vengono abbiamo temi per i prossimi anni va bene ok e poi trasformare vuol dire sempre creare e quella frase che ti era piaciuta tanto Deglia e che la poesia ci fa vedere quello che potremmo essere eccola lì è arrivata quindi sì il rituale come atto poetico è il rituale che è in grado appunto di mostrarci quello che potrebbe essere quindi di accompagnarci in questo salto sì bene io ringrazio tutti i partecipanti e le partecipanti Andrea che ha portato la sua esperienza e la sua conoscenza dal punto di vista antropologico e Barbara che ha portato il suo progetto cicatrice baci che secondo me è un progetto veramente rivoluzionario se vogliamo vederlo sotto i quesiti che ci siamo posti stasera e molto interessante sia come processo sia come risultato mi verrebbe da dire perché le foto sono bellissime molto potenti si sente proprio rituale quindi grazie a voi tutte e tutti e voilà non so se c'era ancora qualcuno che voleva aggiungere qualcosa se no direi che possiamo salutarci per stasera Salvino sì allora anch'io volevo ringraziarvi ma ringraziare anche in particolar modo Barbara vabbè lei lo sa che io la stimo tantissimo e che apprezzo molto quello che fa perché è veramente una cosa rivoluzionaria quindi complimenti per il coraggio e niente faccio un in bocca al lupo per tutto e spero che che possa portare avanti questa cosa con successo ma non ho dubbi che sicuramente succederà così quindi un in bocca al lupo per tutto veramente con tutto il cuore grazie prego buona serata buonanotte e a presto ciao Gabriella ciao a tutti ciao a tutti grazie ciao 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 ciao